Ciao a tutti, sono Andy Baldassari, Product Specialist di SoundSation, il marchio Pro Audio e Musical Instrument di FrenExport SPA. Siamo qui oggi per innanzitutto lanciare un messaggio del quale siamo molto fieri, ovvero che dopo tanti tentativi finalmente ce l'abbiamo fatta e siamo lieti di presentarvi la nuova linea di studio monitor Clarity. Abbiamo qua tre modelli, abbiamo il Clarity 5 appunto con il cono da 5, il Clarity 8 e in aggiunta il subwoofer da 10, Clarity 10. Per quanto riguarda, diciamo due parole velocemente tecniche per questi prodotti, abbiamo le due case da 100 watt con il cono da 5 in aramid glass fiber e il driver soft dome da un pollice. Abbiamo poi la stessa versione a 180 watt con il cono da 8 e il subwoofer invece sviluppa una potenza di 200 watt. Design completamente made in Italy, componentistica di prima qualità e un prezzo molto molto aggressivo per la qualità di questo prodotto. Vediamo adesso il pannello posteriore. Il pannello molto pulito ed elegante è comune sia per la versione a 5 pollici che per quella ad 8. Abbiamo un ingresso sbilanciato RCA e due ingressi bilanciati, uno a jack ed uno a XLR. Abbiamo una manopola per il controllo del volume che va da meno 80 fino a più 6 dB ed abbiamo anche un controllo delle altre frequenze che va da meno 2 dB fino a più 1 dB. Notiamo che a differenza del subwoofer che lo ha nella parte frontale, qui la bocca del reflex è posta nella parte posteriore, esattamente sotto il pannello dell'elettronica. Clarity 10, sicuramente un grande ausilio per la fedeltà di riproduzione delle basse frequenze. Presenta due ingressi bilanciati sia jack che XLR e i due output sempre bilanciati appunto per i satelliti. Come nelle due sorelle minori abbiamo il controllo di volume da meno 80 fino a più 6 dB. Qui abbiamo anche ovviamente, avendo il crossover incorporato, la regolazione del crossover da 50 fino a 150 Hz. Abbiamo l'inversione di fase a 180 gradi ed abbiamo anche l'autopower per farlo funzionare soltanto all'arrivo di un segnale in ingresso. E qui, come ho detto anche prima, troviamo la bocca del reflex nella parte anteriore. Un design molto elegante. Oggi abbiamo visto la versione bianca, ma è anche disponibile la versione grigia per tutti e tre i modelli. Unite a delle performance sonore davvero di tutto rispetto, fanno di Clarity lo stato dell'arte dello studio monitoring made in Italy by SoundSession. Per ora è tutto e ci sentiamo a breve per dei nuovi sviluppi sulla linea studio Monitor SoundSession. Alla prossima!